tra il 1911 e il 1968 le teleferiche minerarie che attraversando la valle del pecora trasportavano la pirite estratta dalle miniere dell'interno confluivano nel terminal portuale di terra rossa nei pressi di portiglioni dove poi il minerale veniva scaricato direttamente nelle stive delle navi mercantili oggi smantellate le teleferiche è ancora possibile visitare gli imponenti resti del sito industriale di terra rossa i silos per lo stoccaggio del minerale la galleria di carico i piazzali la costa frastagliata dove la natura si è ripresa il suo spazio e il mare è nuovamente limpido e pulito Grazie 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 a tutti